Mi chiamo Massimo Macciò, ho 57 anni e il mio primo ricordo delle bombe di Savona ricade da quando avevo 11 anni, era il novembre del 1974 ed è legato a un incidente quasi umoristico, perché ricordo di essere andato con i miei genitori, mio padre, mia madre, la mia piccola sorellina, a vedere per la curiosità di mio padre, che era un tipo burbero ma in fondo curioso, cosa era veramente successo, cosa poteva essere successo dalla scuola media Guido Bono, uno dei luoghi dove era scoppiata appunto una bomba, e con la mitica Fiat 1300 che avevamo allora, che sul più bello aveva pensato bene di non partire più, di fermarsela. I poliziotti o carabinieri, adesso non ricordo che erano arrivati, si erano trovati di fronte non soltanto a un potenziale dinamitato, cioè mio padre, che peraltro aveva potuto dimostrare in brevissimo tempo che non soltanto non dinamitava, ma anzi era uno di coloro che al maggior nipari andava nei comitati del porto dove lui lavorava, e i giorni disperi nel comitato di quartiere a fare le ronde, ma si erano trovati di fronte anche alla necessità di far partire quest'altro, e quindi il mio primo ricordo è di queste forze dell'ordine che spingono questa macchina in quella breve discesa per provare a farla ripartire. Eravamo davanti alla scuola media Guido Bono, quindi a Savone, oltre le timbre a Savone. Io abitavo a Leggino, con i miei chiaramente, e Leggino era un quartiere operaio, quindi da un certo punto di vista nella ricostruzione che faccia adesso di quello che poteva aver pensato allora, era un quartiere potenzialmente a rischio e esplosioni, poi nel corso del tempo ho approfondito un po' anche le mie idee sull'argomento, ma allora ero abbastanza convinto che fossimo un po' tutti in pericolo nel quartiere, e allora con un mio amico, ricordo che passavamo i pomeriggi a girare per gli scantinati, piuttosto che per le vie di questo piccolo borgo in realtà che era, ed è ancora Leggino, per controllare che non ci fossero bombe. Ed era da un lato un gioco abbastanza fanciullesco, dall'altro però era stato, se vogliamo, un buon allenamento antifascista, quantomeno. Io ricordo il fatto che comunque la reazione mi aveva abbastanza impressionato, la reazione della popolazione di Savona, del comitato di quartiere, tutte persone che conoscevo benissimo, perché appunto Leggino era un piccolo borgo, poi era fine, e la reazione anche di tante persone che non sospettavo potessero mobilitarsi per andare a fare le ronde notturne, piuttosto che i controlli e quant'altro, e che invece avevo trovato che si erano non soltanto mobilitate, ma date anche un'organizzazione, ripeto, il consiglio di quartiere, tutta una serie di vigilanza organizzata, e che, ripeto, passavano i loro pomeriggi a controllare che non succedesse niente di strano. E quello mi aveva piuttosto impressionato, devo dire la verità. Il mio nuovo interesse per le bombe di Savona in realtà è legato alla strage di Ustica, a quell'orrendo strage, vergogno veramente, d'Italia, che non credo a ne abbigliare di presentazione. Nel 2004 io ho sempre seguito questa vicenda, per gli altri motivi, sono in buonissimi rapporti con molti di coloro che Daria Bonfietti, piuttosto che quant'altro, ed ero andata a sentire la sentenza del processo per i depistaggi, sostanzialmente, a Roma. E lì, mentre aspettavamo il verdetto, ero stato avvicinato da un ragazzo che allora non era neanche ancora un avvocato, era un patrocinatore legale, che si chiama Speranzoni, il quale, parlando, era uscito fuori, che io, a Savona, lui ricordava di aver visto in uno scantinato sull'Appia Antica a Roma, un deposito dell'Ufficio Affari Riservati del Ministro degli Interni, scoperto da poco, uno dei tanti archivi segreti che qua la spuntavano fuori, quantomeno fino a un po' di tempo fa, e di aver visto degli scatoloni con su scritto Savona, che con tutta evidenza, probabilmente, contenevano qualcosa relativo a quel periodo, quello del 1974-75. E io ricordava malappena, ma veramente, proprio quasi come fosse una sorta di sogno, queste vicende automobilistiche, piuttosto che la mobilitazione, ma in un alone veramente di mistero, e allora mi è rinata, o mi è nata una certa curiosità di vedere un po' che cosa era successo, e allora ho cominciato a organizzare tutta una serie di situazioni, ho invitato Savona a Speranzoni e da lì è rinata un attimino, quantomeno il mio interesse per le bombe di Savona. Ma sostanzialmente si trattava di fare un attimino un minimo di chiarezza, cominciando da richiamare, se vogliamo, i testimoni, cioè coloro che avevano partecipato alle ronde, piuttosto che partecipato alle indagini, piuttosto che erano stati in qualche modo protagonisti a diversi livelli e con diverse posizioni, ma di quel periodo, di richiamare un attimino a ricordare quello che era successo. E allora, per fare questo, avevamo istituito un comitato, un comitato per le bombe di Savona, e avevamo cominciato a fare una serie di iniziative, ricordo una sorta di riunione all'asilo delle piramidi lì giù a Savona, era rinato un minimo di interesse, l'allora procuratore capo scolastico era andato a Roma a vedere questi famosi scatoloni dell'archivio dell'ufficio affari riservati della più antica, era rinato una sorta di interesse di questa vicenda. E, se intende, intervistando, parlando con queste persone, era uscito fuori il primo libro, Le bombe di Savona, che ce la racconta, che è per l'appunto un libro di testimonianze, di persone che da punti di vista diversi, da sponde politiche anche diverse, e da posizioni diverse, comunque avevano partecipato ai giorni delle bombe. Poi, in seguito, a partire quindi dal 2008, è nata anche la curiosità di tentare di capire un po' meglio, non soltanto qual era stato l'ambiente, quali erano stati testimonianze, ma che cosa era successo. E allora ho approfondito le indagini e nel corso del tempo sono usciti fuori due libri che ho pubblicato recentemente. Sostanzialmente nel libro io mi pongo due obiettivi, o meglio, sono partito avendo un'idea in testa che poi si è evoluta. L'idea era quella di verificare se la vulgata popolare, diciamo così, sulle bombe di Savona potesse avere un fondamento, o no, la vulgata popolare è quella, le bombe di Savona, se il terrorismo di destra ha scelto Savona come test per un eventuale colpo di Stato futuro, e quindi Savona sarebbe stata utilizzata a questo scopo. I savonesi hanno reagito splendidamente a questo attacco, a questo test, e quindi il test è fallito, il colpo di Stato non c'è stato, in buona sostanza. Devo dire la verità, mio padre, ripeto, faceva al giorno pari le ronde a destra, ai giorni dispari le ronde a sinistra, però questa spiegazione delle bombe di Savona a me non mi ha mai sostanzialmente convinto. Primo perché manca qualsiasi riscontro, sia pur minimo, fattuale su queste cose qua, e secondo perché, secondo me, pecca un po' di provincialismo questa storia qua. Savona eroica, savonesi che si sono allevati, senza esporsi alle televisioni e quant'altro, ma nella realtà si sono comunque elevate al rango di Salvatore della Patria, poi la fin fine. E allora ho cominciato ad andare a vedere se questa spiegazione potesse avere un qualche riscontro o no. Ho passato diversi mesi all'archivio della Questura, a verificare tutti gli atti che sono in Questura, 16 faldoni su questa vicenda qua, ho approfondito presso altri archivi, in Liguria, da altre zone, in Toscana, e poi sono andato a chiedere sia ad alcuni enti internazionali, per esempio l'FBI, la CIA, per esempio la difesa europea, attraverso il Freedom of Information Act di chiedermi se loro avevano del materiale sulla vicenda. E poi ho cominciato a sentire persone che potevano saperne qualcosa, anche qui a vario titolo, giudici, per esempio, politici dell'epoca, per esempio, terroristi. E i terroristi sono una delle categorie per incisa che mi ha risposto più e meglio. Uomini dei servizi segreti, che in quel periodo lì, lavoravano fattivamente in Italia, in parte in maniera scoperta, in parte in maniera coperta. Molta gente, veramente molte lettere, molte non mi hanno risposto. Qualcuno mi ha risposto, per esempio Liciocelli, consigliandomi amichevolmente di lasciar perdere, qualcuno ha voluto approfondire con me questa vicenda qua. Non posso raccontarvi perché sono vincolato al segreto, finché queste persone non moriranno, mi sono impegnato, quindi nel caso loro non volessero, come non vogliono, di non divulgare queste conversazioni che abbiamo avuto. Con qualcuno invece non ci sono stati problemi, uno di questi è stato Vincenzo Vinciguerra. Vincenzo Vinciguerra, che è l'autore riconosciuto, da lui stesso denunciato, come autore della strage di Peteano, il sagrato di Gorizia, e che sconta l'ergastolo, rifiutando tutte le varie proposte di grazia, piuttosto che riduzione della pena, sostanzialmente a prezzo di una biura. lui si definisce un soldato politico e passa i suoi giorni al carcere di opera e non è un pentito questo signore qua, perché non ha le caratteristiche del pentito e non fa, come dire, dichiarazioni in quanto pentito, ma ha l'obiettivo di fare chiarezza. E allora, da sponde politiche, ma proprio molto, molto diverse, io comunque ho provato a chiedere anche a Vincenzo Vinciguerra se sapesse qualcosa e che cosa sapesse delle bombe di Savona. e lui mi ha risposto e abbiamo cominciato una sorta di conversazione pistolare che è durata un paio di anni buoni tranquillamente e dal quale sono uscite delle, diciamo così, novità, tutto sommato, di qualche interesse per quanto riguarda sia la spiegazione fattuale delle bombe, ma soprattutto quale può essere la genesi, la genesi effettuale, la reale genesi delle bombe di Savona. intanto ho ricevuto da una persona che conosco molto bene ma che anche qua non nominerò perché mi ha come dire, non vuole che io la nomine, una lettera che ricorda una conversazione avuta da questo signore con Paolo Emilio Taviani che allora era il ministro degli interni, questo signore che collaborava con Paolo Emilio Taviani per altre questioni e che racconta che Paolo Emilio Taviani o meglio in cui Paolo Emilio Taviani racconta una verità che fino a quel momento non era ancora comparsa. Bene, ho studiato un po' anche questa possibilità, ho esaminato con Vincenzo Vinci Guerra che tra l'altro scrive anche una 30 pagine di cronologia piuttosto sorprendente se vogliamo da un certo punto di vista di quel periodo e ho esaminato con lui quanto poteva essere reale questa spiegazione che vede coinvolta Paolo Emilio Taviani. Non ci sono pistole fumanti in questo libro, non potrebbero neanche esserci a meno che qualcuno improvvisamente autodenunciasse cose che a 48 anni di distanza sembrerebbe difficile, però la possibile spiegazione che ho dato credo che meriti qualche attenzione. Faccio una premessa, vicino delle bombe di Savona dal punto di vista investibile e attività non è conclusa assolutamente e ancora 7 giorni fa ho ricevuto la confidenza di una persona chiaramente ormai d'età ma che nel 74 era un giovanotto diciamo così che racconta delle cose inedite su quanto meno lo scopo di una bomba quella del sul traliccio sul traliccio dell'Enel del febbraio del 1975 e che dà una possibile spiegazione che credo potrebbe in qualche modo aggiungere qualcosa a quello che già si sa su questa vicenda la persona con questo finisco la premessa chiaramente aveva informato di questa sua presenza e di queste sue testimonianze l'attuale ufficio politico della questura non si è mai saputo niente di questa vicenda quindi ci sono ancora c'è ancora lo spazio per avere delle possibili esplicazioni delle possibili novità dopodiché le piste sono molte se partiamo dalla pista locale quella che vorrebbe come autori alcuni giovanotti di buona famiglia diciamo così di Savona e eventualmente con l'aiuto di qualche soggetto che faceva la spola tra Savona e la Toscana in buona sostanza ed è una possibile pista che ho analizzato sulla base di disposizione ma poi ce ne sono molte altre la pista i nomi sono scritti nel libro quindi non credo poterne fare la stessa sera in cui avviene lo scopio al tralicio dell'Enel quattro giovanotti allora ragazzini adesso veramente di età comunque vedono una 126 verde che viene giù a rompiccolo dalla strada che dal viadotto scusate dal traliccio dell'Enel porta verso Leggine quindi dalla via La Strà in buona sostanza e visto che la macchina ha rischiato di investirli visto che la macchina si può essere confusa con quella di proprietà della madre di un ragazzo che quindi potrebbe fare delle storie a questo ragazzino qua questi ragazzi si annotano mentalmente il numero di targa della 126 verde e non appena arrivano in paese la raccontano prima a un vigile del fuoco e poi a un esponente della polizia e dall'analisi della targa di questa esce fuori che questa 126 verde appartiene a un signore liquidiano che lascia normalmente in uso la macchina al figlio il figlio interrogato dalla sua versione dei fatti chiaramente dichiarandosi del tutto estranea la cosa e poi dice che suo intimo amico è il figlio del procuratore della Repubblica e che conosce anche molto meno in questo secondo in realtà soltanto per motivi di studio il figlio del prefetto e da qui nasce una storia che da un lato porta a una difficoltà nel proseguo delle indagini quella difficoltà che poi tempo dopo porteranno Camillo Boccia allora procuratore della Repubblica essere trasferito con censura dal consiglio superiore della magistratura proprio in relazione alle bombe di Savona e dall'altro apre uno squarcio anche su quanto questa storia può essere una storia di paese e quanto invece questa storia può essere qualcosa di più di una storia di paese poi ripeto manca la pistola fumante su questa storia qua è possibile anzi è probabile che i ragazzi di cui abbiamo parlato non c'entrino assolutamente nulla con questa storia forse invece no forse invece qualcosa c'entra perché poi alla fine quella delle bombe di Savona così come ogni altra storia da un lato un minimo complicata e dall'altro un minimo prolungata nel tempo poi presenta tutta una serie di spigoli una serie di persone che lì per lì sembrano centrarci molto con questa storia e poi improvvisamente spariscono e vengono in qualche modo esclusi poi alla fine si scopre che forse del tutto esclusi da questa vicenda qua non c'erano altri che invece sembrano assolutamente colpevoli assolutamente come dire meritevoli di attenzione si scopre che probabilmente non c'entrano nulla è una storia che ripeto ha diverse sorprese porta a diverse sorprese e poi rimane sempre il discorso che da un lato sta alla base e dall'altro sta al fondo della spiegazione del perché di queste bombe da questa spiegazione si possono a seconda della spiegazione che si dà del perché delle bombe di Savona si privilegiano sicuramente alcune piste e se ne scudono sicuramente alcune altre io ripeto con l'aiuto di Vincenzo Vinci Guerra non voglio prendermi alcun merito che non ho perché un'analisi politica l'ha fatta lui ripeto da sponde diversissime proprio molto diverse da quelle che io però in questo caso con un acume politico che sicuramente io non ho e con l'aiuto di Vincenzo Vinci Guerra siamo giunti a una certa conclusione che da un lato si allontana molto dalla vulgata popolare e dall'altro fa sì che le bombe di Savona possano essere addirittura delle bombe di pacificazione so che sembra un paradosso so che sembra anche offensivo da un certo punto di vista nei confronti per esempio di Fanni Dallari che è la persona morta nello scopio della bomba del 20 di ottobre e quindi in qualche modo offensivo ma da un certo punto di vista paradossalmente potrebbe essere addirittura così se si utilizza questa pista allora vengono anzi rivalutati tutta una serie di comportamenti di atteggiamenti di persone mentre altri che sembravano molto indiziabili diciamo così tutto sommato scompaiono è facile parlarne adesso quando sono passati i 40 erotti anni e quando poi si sono venuti a sapere quella serie di cose gli inquirenti stessi nel momento brancolavano abbastanza nel buio bisogna anche tenere presente che Savona era una cittadina tutto sommato di provincia da un certo punto di vista questa è veramente una storia di paese di una piccola città di provincia con un pc quasi pubblicitario in città in quel momento con una diciamo un'industria che già in qualche modo preconizza una crisi ma che è ancora l'industria voglio dire secondare secondario è ancora imperante e in cui nessuno si aspetta in quel momento che cominciano a scoppiare non una bomba ma una serie di bombe che non si sono mai viste neanche ai tempi dell'IRA a Belfast una serie assolutamente inedita di bombe e quindi in una situazione del genere anche coloro che indagavano si sono trovati a mal partito ci sono diverse dichiarazioni alcune le riportano anche nel libro in cui questi inquirenti dicono ma in realtà noi non sappiamo dove andare a mettere le mani perché questi colpiscono a casaccio come dei pazzi c'è proprio questa dichiarazione e adesso ripeto è facile dire però eravate un po' come di ingenui allora molto meno da questo punto di vista e quindi questi inquirenti hanno battuto sondato tante piste alla ricerca di quello che potesse essere un filo logico una spiegazione che portasse alle bombe di Savona e allora esce fuori per esempio Edgardo Sogno che in quel periodo 1974 nell'agosto stava organizzando una sorta di colpo di Stato l'ha dichiarato lui poi nella sua testimonianza di un anticomunista nel libro che ha scritto in collaborazione con un giornalista molti anni dopo e che in quel momento pur senza essere ufficialmente ricercato era sparito da Torino perché a Torino era ricercato dall'allora giudice violante e quindi l'aria scottava ed era in quel periodo probabilmente a Savona anzi a Celle Ligure dove si faceva peraltro vedere a Cena Varazze eccetera con una serie di sodali e che qualcuno ha quindi accostato a queste bombe di Savona ma possiamo anche pensare per esempio a Ordine Nero che era quel gruppo ufficialmente una sorta di derivazione di Ordine Nuova quando questo primo gruppo Ordine Nuovo era stato dichiarato fuori legge dal ministro dell'interno Ottaviani per l'appunto a fine 1973 forse Ordine Nero era anche qualcos'altro e forse era qualcosa di molto diverso da quello che voleva sembrare forse era anche un'emanazione del ministro degli interni o secondo altri storici dei carabinieri quindi era tutt'altra cosa e secondo alcuni questi Zani per esempio Fabrizio Zani che era uno dei capi di questo Ordine Nero avrebbero in qualche modo collaborato ampiamente effettivamente se non addirittura essere negli autori di questi scopi delle bombe di Savona però Fabrizio Zani va in carcere il 27 di ottobre del 74 prima cioè che scopino le 7 bombe in 15 giorni che costituiscono le bombe di novembre per intenderci e da lì a poco qualcuno muore Daniele Sposti per esempio qualcun altro viene arrestato Danieletti e Dintino sempre di Ordine Nero e inoltre i tempi non quadrano per intenderci e Fabrizio Zani ha sempre dichiarato quando l'allora giudice Alessandrini gli aveva presentato l'elenco di 11 esplosioni che erano state attribuite a Ordine Nero ha sempre dichiarato ben prima che cominciassero le bombe savonnesi i primi 8 esplosioni delle prime 8 esplosioni siamo responsabili delle ultime 3 no le ultime 3 sono una Treviso una Trieste e le bombe di Savona per cui sì potrebbe essere l'orche Ordine Nero ma tutta una serie di elementi fanno ritenere che invece probabilmente le cose potrebbero anche non essere andate così ce ne sono ripeto diverse che la pista americana la base di Pian dei Corsi Pian dei Corsi di sopra fine delle Ligure c'era una base non era nata in realtà una base americana una base militare che ufficialmente serviva da Signal Support Agency farà dire da occhio elettronico per i missili atomici americani che andavano verso il sud diciamo così e come strumento di difesa contro eventuali attacchi atomici missili atomici che provenissero dall'Unione Sovietica o da quant'altro qualcuno dice senza riscontri effettivi ma con una voce piuttosto ricorrente che sotto la base di Pian dei Corsi potevano esserci a loro volta delle armi atomiche e allora a questo punto il discorso è anche logico ma è possibile che gli Stati Uniti mantengano una base che costa svariate centinaia di milioni di dollari e che è l'occhio sul sud Europa della sua strumento di difesa europea e non prestino un occhio di attenzione a tutto quello che succede nelle vicinanze della base a 15 km dalla base secondo un giornale di politica militare di politica militare che si chiama Maki questo non era possibile e allora se è così gli Stati Uniti controllavano attraverso i loro servizi e gli uomini dei servizi segreti quello che succedeva non soltanto a finale ma nelle vicinanze di finale e allora se è così gli Stati Uniti potrebbero aver saputo probabilmente anche prima dell'inizio ufficiale di questa vicenda che a Savona si stava per prefigurare una sorta di ci fosse qualche movimento qualche movimento terroristico qualche movimento eversivo e potrebbero anche aver utilizzato sempre secondo se questa teoria della pista americana ha un senso potrebbero anche aver utilizzato questi eversori oppure essere stati addirittura gli Stati Uniti gli autori di queste bombe per valutare quanto fosse reale la tenuta della base cioè quanto rischi corresse la base in caso di una sollevazione popolare a seguito di queste bombe sono tutte teorie che io ho tentato di analizzare nel libro e che io personalmente considero tutte poco praticabili anche questa che tutto sommato ha qualche riscontro quando io ho scritto alla CIA per chiedere se sapessero qualcosa delle bombe di Savona la CIA in modo differente da quanto ha fatto l'FBI per esempio e da quanto hanno fatto tante altre organizzazioni non mi ha risposto noi non ne sappiamo niente mi ha risposto noi non possiamo fornire nessuna informazione perché la informazione è come dire tenuta accuratamente segreta e quindi noi possiamo neither confirm nor deny ok perché è la formula che la CIA utilizza tutte le volte in cui i suoi uomini sono coinvolti in qualcuna di queste operazioni coinvolti nel senso che erano presenti o nel senso che stavano per l'appunto controllando o magari nel senso che erano addirittura più che controllori e quindi per non correre il rischio di mettere in pericolo la sicurezza l'incolumità o la vita di queste persone si rifiuta di fornire informazioni non è una grande scupe in realtà perché l'ha dichiarato lo stesso comandante della base NATO di quel periodo che era un giovanottone americano di colore che giocava benissimo a baseball tanto è vero che la squadra di baseball di finale è arrivata in serie B in quel periodo che metteva dischi nelle discoteche di finale rigure e metteva dischi decisamente come dire di qualità da quel punto di vista ma che oltre che a fare il disgiocchi e a giocare a baseball e a fare chiaramente il comandante della NATO era anche un uomo della CIA evidentemente e quindi sapeva sicuramente quello che stava succedendo questo sì sul fatto che la CIA però potesse avere un interesse diretto nello scopo delle bombe di Savona è un'ipotesi alla quale io non credo molto ma la pista genovese deriva dal fatto che in un circolo culturale ufficialmente in salita a Santa Caterina a Genova si radunavano correntemente tutta una serie di soggetti che da un lato erano genovesi anche in questo senso parliamo di Mauro Meli parliamo di De Andres parliamo di tutta una serie di personaggi di questo genere e cioè persone di poche parole e molte infatti uno di questi ancora vivo si chiama Pietro Benvenuto dall'altro dal fatto che i finanziatori di un tentativo di colpo di Stato già quello che nel 1970 aveva tentato o meglio aveva iniziato il comandante Borghese che nella notte di Toratora cosiddetta aveva tra il 7 e l'8 dicembre del 1970 aveva invaso occupato con i suoi uomini il ministero dell'interno e stava per arrivare a andare a prendere il Presidente della Repubblica a un certo punto una misteriosissima telefonata aveva bloccato tutta l'operazione e questi legionari diciamo così se ne erano tornati a casa ma il finanziamento di questa operazione e di tutta una serie di altre operazioni si doveva a alcuni industriali genovesi tra cui Piaggio evidentemente e quindi in cui i soldi delle operazioni stavano a Genova cosa hanno fatto questi genovesi e dopo soprattutto il fallito attentato Torino-Roma in cui Nicoazzi che era uno di questi attentatori che stava portando una bomba per farla scoppiare durante il tragitto del treno da Torino-Roma si vede esplodere a lui questo detonatore per fortuna non ha ancora armato nella toalette del treno proprio mentre lui sta tentando di armeggiare la cosa è stato scoperto grazie a questa esplosione fortuita questo forse sobbalzo del treno non ha mai dichiarato altro ma probabilmente anche lui di queste cose sapeva qualcosa però siamo sempre lì queste persone non hanno mai parlato sono genovesi anche da questo sono stati genovesi anche da questo punto di vista e quindi quelle informazioni che abbiamo e qualcuna abbiamo trovata derivano diciamo sono informazioni del relato derivano cioè da dichiarazioni infatti interpretate in qualche altro modo confessioni non ce ne sono per quanto riguarda le bombe di Savona è un'altra pista possibile interessante e quant'altro ma che tutto sommato secondo me manca ancora della parte iniziale perché? perché sono scoppiate le bombe di Savona? io sono assolutamente convinto che si scopriranno tantissime cose quando si risponderà a questa domanda perché sono scoppiate le bombe di Savona? perché Savona? ripeto e qui bisogna vedere tutta una serie di varie teorie in particolare la teoria di cui ho già parlato cioè del fatto di Savona come teste quindi le bombe per colpire una città operaia che bene o male fa parte del triangolo industriale che ha una storia operaia comunque di qualità e una tradizione operaia di livello e verificare aggredendo questa cittadina qua se la popolazione poteva reagire o non avrebbe reagito a queste provocazioni cioè a queste bombe e allora questa è una teoria oppure se in realtà Savona non c'entra niente con la diciamo così leziologia delle bombe ed è stata scelta perché la località che sarebbe stata quella di elezione per mettere queste bombe qua in realtà non poteva essere utilizzata in questo momento la città avrebbe dovuto essere Genova e l'obiettivo avrebbe dovuto essere Paolo Emilio Taviani lo dice lui non invento niente non so neanche se effettivamente è così poi io penso che sia abbastanza vero abbastanza riscontrato questa cosa qua però l'ha detto lui confessato lui al suo interlocutore questa cosa qua avrebbe dovuto essere Genova e avrebbe dovuto essere Paolo Emilio Taviani in qualche modo la vittima e le bombe queste stranissime bombe diciamo così estremamente come dire precise da fare via via un po' più male alla popolazione ma senza fare l'esplosione che causa centinaia di morti o decine di morti non bombe chirurgiche da questo punto di vista avrebbero dovuto servire per allontanare Paolo Emilio Taviani il rinnegato colui che fino a qualche anno prima si dichiarava abbastanza esplicitamente pronto a passare anche a soluzioni eversive di destra più pesanti e che poi improvvisamente nel 1973 tornato al Ministro degli Interni aveva fatto una sorta di virata a 180 gradi e aveva cominciato a dichiarare che il pericolo in Italia stava soltanto a destra vada a dire nelle versioni di destra e che lui avrebbe combattuto come in effetti poi in buona parte ha fatto le versioni di destra in ogni modo e quindi in qualche modo era vista da coloro che hanno poi messo queste bombe come un possibile rinnegato per allontanare questo rinnegato e quindi far finire la guerra tra i due ali dello stesso schieramento in questa guerra sotterranea a bassa intensità che c'è stata in Italia fino al 1974 qualcuno potrebbe aver deciso di dire va bene finiamo il discorso finiamo da un lato le sciabole vado a dire le esplosioni dall'altro le manette che vanno per esempio ai posti di Miceri che era il capo dei servizi segreti e di tutta una serie di altri soggetti fumagali e quant'altra cosa però vogliamo che Taviani se ne vada da uno dei ministeri chiave come il ministero degli interni così come qualcun altro può aver detto vogliamo che Andreotti se ne vada dal ministero della difesa e allora Andreotti era ministro della difesa secondo questa spiegazione secondo questa ipotesi Andreotti avrebbe accettato di fare questo strannissimo giro di giostra e quindi di abbandonare il ministro della difesa per andare in un ministero di minore importanza e quindi si sarebbe preparato il terreno per una volta conclusi queste guerra a bassa intensità e cominciato diciamo così la fase 2 quella che vedeva il coinvolgimento delle brigate rosse e si sarebbe preparato per un ritorno in grande stile Taviani no sempre secondo questa ipotesi avrebbe in qualche modo manifestato a gran voce e nel libro riportato ma probabilmente anche ad orecchie più sensibili anche se più segrete la sua contrarietà a questa ipotesi di abbandono del ministero degli interni e qualcuno si sarebbe quindi adoperato per consigliarlo con le buone oppure con le cattive di sloggiare a Genova a Genova era un pochino più difficile perché già qualche mese prima quando era scoperta la prima bomba quella del 30 aprile davanti alla casa del senatore Varaldo e questa bomba è abbastanza come dire ammesso che sia una bomba in funzione Gladio Taviani era stato l'ideatore il finanziatore e il controllore di questo esercito segreto che era una sezione diciamo così dello stay behind europeo cioè di queste strutture segrete a disposizione della Nato e in funzione ufficialmente anti-invasione comunista ma che in realtà erano coinvolti anche in tanti italianissimi o comunque localissimi tentativi di golpe e qualcuno in quel periodo lì avrebbe voluto convincere parliamo del 30 aprile 74 Taviani con le buone con le cattive a inserire tra i vertici di questo esercito segreto Gladio che verrà alla luce anni dopo ma che allora era già come se operante inserire ai vertici una serie di elementi neofascisti coinvolti diciamo così o comunque di provata fede neofascista cosa che Taviani non aveva mai voluto fare Taviani sempre secondo le sue parole in questa confessione segreta diciamo così aveva sempre privilegiato chiaramente anti-comunisti come se si tratta ma anche persone che non potevano essere sospettate di collusioni o quantomeno contatti con le versioni di destra in quel momento qualcuno invece avrebbe voluto inserire qualcuno di questi uomini in queste posizioni Taviani si sarebbe a posto e lo dice lui mi mandano un biglietto dicendo entro una settimana guarda che scoppia una bomba nel tuo collegio elettorale cinque giorni dopo scoppia una bomba del 30 aprile davanti alla casa del senatore Varaldo in quel momento non si poteva fare a Genova perché c'era il sequestro Sossi a Genova era stato sequestrato un giudice il giudice Mario Sossi da parte delle brigate rosse era stato uno scacco veramente pesante per le forze dell'ordine e lo racconta il generale Bozzo anche in questo caso non sono mie parole e l'allora tenente colonnello che poi diventerà generale dei carabinieri Nicolo Bozzo racconta che era stato veramente uno smacco forte perché queste brigate rosse avevano sostanzialmente ridicolizzato il controllo che avevano dovuto fare i carabinieri nei confronti di questo giudice e di conseguenza in quel momento a Genova c'erano probabilmente più poliziotti che abitanti e fare un attentato o qualcosa in questo genere a Genova sarebbe stato da un lato irresponsabile e rischiosa per coloro che l'avessero fatto e dall'altro inutile Savona aveva una serie di elementi favorevoli una magistratura diciamo così distratta probabilmente tutta una serie di elementi che comunque era nel collegio elettorale degli italiani e quindi in qualche modo si poteva capire chiaramente a chi fosse destinata e a chi fosse destinato il messaggio che lanciava questa bomba questi attentatori fanno scoppiare la bomba davanti alla casa del senatore Varaldi via Paleoca su questa bomba del 30 aprile direi che si può anche convenire abbastanza tranquillamente sulle altre molto meno lo dice anche lo dicono Taviani stesso lo dice anche però Taviani si dice convinto che tutte le bombe di Savona in qualche modo fossero riconducibili a lui e qualche ragione potrebbe averla perché l'ultima bomba di novembre quella del 23 di novembre scoppia proprio nel primo pomeriggio del giorno in cui alla sera viene formato il nuovo governo questo governo che era da due mesi che si trascinava avanti che non si riusciva a formare proprio perché Taviani si rifiutava di lasciare il ministro all'interno e Taviani alle spalle aveva una serie di amici americani che in quel momento erano in disgrazia perché era cambiata la linea anche oltreoceano ma che comunque c'erano ancora e quindi in qualche modo offriva delle resistenze ufficiali forti e ufficiose nel senso nascoste probabilmente ancora più forti il 23 novembre finalmente Taviani non si convince più di tanto ma finalmente Aldo Moro visto queste bombe qua che non si fermano quanto altro e tutto alla sera vara il governo e Taviani non c'è Taviani non ritornerà mai più in un governo della Repubblica Italiana fino alla morte è il suo ultimo giorno da ministro di qualsiasi ministero non stato il ministro dell'interno il 23 novembre proprio il giorno in cui scoppia una strannissima bomba sull'autostrada in cui a differenza delle bombe precedenti dove gli attentatori gente esperta probabilmente si era guardata bene dal fornire in qualche modo indizi e cosa la bomba qui è piena di indizi comunque l'attentato è pieno di indizi che convergono tutti verso una certa direzione è così? non è così? è una possibilità secondo me questa possibilità ha un coefficiente diciamo così di ragionevolezza che comunque è superiore a quella della vulgata popolare le bombe come testa e quant'altro poi ripeto forse un giorno troveremo qualcuno che dirà sì sono stato io fornendo anche i dovuti riscontri fino a quel momento lì dobbiamo accontentarci in qualche modo di indizi perché in quel momento esistevano a Genova dove c'era un magistrato il giudice Cocco che due anni dopo sarà ucciso dalle Brigate Rosse in uno dei primi era la prima volta che le Brigate Rosse facevano un attentato con lo scopo di uccidere espressamente di uccidere una persona e l'avrebbero fatto proprio a Genova con il giudice Cocco questo giudice qua un giudice di destra dichiaratamente un giudice assolutamente contrario ad ogni possibile non dico patteggiamento ma anche ogni possibile contatto che non fosse un contatto giudiziario con le Brigate Rosse aveva però accanto a sé tutta una serie di chi chiamavano i prettori d'assalto allora tutta una serie di giovani magistrati i quali in qualche modo contestavano o comunque non erano fedeli alla linea imposta dal procuratore capo e che spesso entravano in polemica un pago grosso così di articoli di giornali in cui i giovani Adriano Sansa per esempio il padre di quel Ferruccio Sansa che recentemente è stato candidato come presidente della regione Liguria e che sostanzialmente contrastavano e contestavano l'indirizzo politico tenuto dalla procura di Genova inoltre il fatto che il sequestro Sossi fosse stato non scoperto perché Sossi l'hanno liberato le Brigate Rosse di una spontanea volontà la polizia non è riuscita neanche a identificare il nascondiglio in cui era stato ottenuto Sossi ma comunque il sequestro Sossi aveva causato comunque una serie di conseguenze per le quali in questo momento la presenza delle forze dell'ordine a Genova era ancora assolutamente cospicua ancora a ottobre Genova era presidiata pressoché militarmente o quasi militarmente e di conseguenza perché andasse a cercare dei problemi la Genova quando il messaggio passa sicuramente anche se le bombe le facciamo scoppiare a Savona e a Savona c'è una magistratura che non ha le stesse caratteristiche che in quel momento ci sono a Genova anche questo ripeto non possiamo chiederlo ai diretti interessati però è un indizio che tutto sommato qualche riscontro sembra averlo allora nel 75 scoppiano tre bombe una al 24 di febbraio una al giorno successivo il 25 di febbraio e una al 26 giugno del 1975 io ho sempre considerato non solo io chiaramente ma ho sempre considerato queste tre bombe bombe di segno diverso fatte con materiali diversi da qualcosa importante rispetto a quelli precedenti e da soggetti sicuramente diversi per le modalità d'azione per la dabbennaggine stessa cioè per il fatto di riuscire a farsi beccare praticamente indiretta mentre stavano quasi mettendo la bomba diciamolo pure rispetto a quelle del 1974 le recentissime dichiarazioni di cui parlava all'inizio di questo soggetto che mi ha raccontato contattato da me per tutt'altra questione che non c'entra assolutamente in nulla ma con il quale si è venuti poi a parlare anche delle bombe diciamo così sembrerebbero dare in qualche modo corpo a questa tese le bombe del 75 sono qualcosa di diverso da quello del 1974 e hanno una genesi diversa hanno una modalità di conduzione diversa e hanno anche un finale diverso poi sul fatto che queste bombe del 75 in particolare le due bombe del 24 e del 25 febbraio siano stati la causa del fatto che delle bombe di Savona non se ne è più parlato per 40 anni e non ne ha parlato innanzitutto la magistratura e dopo di che gli organi di informazione e quant'altro per 40 anni questo è vero e si capisce anche il perché evidentemente perché perché colui che è stato inquisito pressoché immediatamente come autore o comunque in qualche modo persona presente durante lo scoppio di questa bomba al traliccio dell'Enel ha fatto una serie di nomi che evidentemente non erano di illustri sconosciuti e questo potrebbe avere indirizzato le indagini verso un quieto come dire defluire verso la prescrizione poi sono successe varie cose è successa l'arrivo di Bozzo è successa la strana storia di Tana del Lupo è morto 5 giorni fa una delle persone che era stato pesantemente inquisito per una di queste bombe quella del viadotto dell'autostrada e che ha passato alcuni anni trovandosi tutti i giorni la polizia davanti alla sua porta che indagava su di lui che faceva domande che guardava dove andava eccetera quindi sono state ancora tutta una serie di fattori di questione è una vicenda complessa però per riassumere la situazione le bombe del 75 secondo me sono di segno diverso sono fatte da autori diversi e con motivazioni diverse rispetto a quelle del 74 ripeto questa è una storia da tanti punti di vista di paese in una città savona che allora forse anche oggi ma allora sicuramente era un paese con tutto meno buono ma con tutto il buono che aveva una città di periferia sia chiaro e però anche piena di vicende anche un po' in un certo punto di vista boccacesche paesanne e quant'altro contemporaneamente però questa potrebbe essere stata una vicenda enormemente grande quanto meno una parte di queste bombe potrebbe essere stata una vicenda enormemente grande che ha costituito veramente una sorta di snodo nella storia d'Italia se è vero quello che aveva detto il generale Miceli proprio poco prima di essere arrestato guardate che da questo momento qua di bombe di destra non ne sentiremo parlare più sentiremo parlare soltanto delle brigate roste delle bombe di sinistra questa dichiarazione va interpretata perché è una dichiarazione pesante importante una possibile spiegazione potrebbe essere questa adesso stiamo per concludere questa pacificazione tra i due rami dell'esercito dello stesso squadra diciamo così cioè del partito americano tra virgolette diciamo così e cominceremo a contrastare noi polizia e in qualche modo organi di informazione e quant'altro l'altro settore o quantomeno utilizzare le brigate rosse per spostare l'attenzione dal terrorismo di destra che ha trovato un punto di sintesi si è acquittato e passare invece al terrorismo di sinistra finisco dicendo una cosa secondo Vincenzo Vinci Guerra io sono assolutamente d'accordo su questa cosa qua in realtà un partito stragista di destra non c'è mai stato assolutamente cioè un partito autenticamente neofascista che metteva le bombe con lo scopo di fare la rivoluzione fascista non c'è mai stato c'è stata tutta una serie di apparati numerosi a partire dal movimento sociale italiano dagli inizi di cui Vinci Guerra analizza bene la genesi reale e quant'altro e poi tutta una serie di altre formazioni Ordine Nuovo Ordine Nero il Mar di Fumagalli le squadre di azioni Mussolini tante nel corso del tempo che ufficialmente volevano e reclamavano a gran loro voce di fare la rivoluzione fascista di prendere violentemente il potere e quant'altro ma in realtà utilizzavano quella tecnica che Vinci Guerra definisce efficacemente destabilizzare e prestabilizzare erano cioè apparati più o meno ufficiosi più o meno ufficiosi perché qualcuno era proprio anche a contratto con qualche ministero italiano ma comunque apparati ufficiosi dello Stato italiano che venivano utilizzati per fomentare diciamo così tutta una serie di causare tutta una serie di bombe e quant'altro e avere quindi una sorta di scusa per poter normalizzare in senso conservativo la situazione e quindi stabilizzare sospendendo alcune libertà costituzionali per esempio la situazione in Italia avendo come scusa come espediente diciamo così il fatto che fossero scoppiate una serie di bombe per me la storia è assolutamente così sono in buona compagnia perché oggi anche una serie di storici del periodo sconvergono sul fatto che il terrorismo di destra in realtà fosse un terrorismo che ancora vinciguerra chiama in qualche modo parastatale è probabilmente così probabilmente questi fieri oppositori del regime democratico italiano in realtà erano gente in qualche caso stipendiata molto spesso comunque a contatto vedi Pino Rauti per esempio con le strutture dei servizi segreti italiani con le strutture dei servizi segreti americani con l'ufficio affari riservati di Federico Umberto D'Amato con persone che in realtà erano a pieno titolo inserite nella nomenclatura ufficiale governativa italiana ma possiamo provare a inquadrarle partendo da una storia che non c'entra niente cioè la storia di Tana del Lupo e la storia di Tana del Lupo è così fatta siamo nel 1983 della vicenda delle bombe non se ne parla più sono capitate nel 74 e nel 75 arriva a Savona un comandante della stazione dei carabinieri proveniente da Milano si chiama Nicolo Bozzo e la sua arriva a Savona è chiaramente una punizione perché Nicolo Bozzo è stato uno degli uomini di punta prima ufficiosamente non ufficialmente poi anche ufficialmente del team di Dalla Chiesa Dalla Chiesa il generale Calabinieri Dalla Chiesa è stato ucciso dalla mafia poco dopo il suo arrivo come prefetto antimafia a Palermo e qualcuno ha cominciato subito a far pagare ai membri del team Dalla Chiesa il fatto di essere stato da quella parte lì e quindi da un giorno all'altro questo l'ha confidato più volte personalmente io ero in ottimi contatti con il generale Bozzo che mi ha dato una cosa a mano per esempio per capire cosa è successo a Ustica tanto per dire e qualcuno appunto vuol far pagare a Bozzo il fatto di aver appartenuto a questo team di Dalla Chiesa e quindi in meno di un mese gli spediscono una bella lettera con scritto destinazione Savona proprio era l'anticamera della pensione per Bozzo in quel momento Bozzo arrivato a Savona riguarda un attimino tutti gli atti che riguardano le bombe di Savona che sono state comunque la cosa forse più eclatante che è successa a Savona negli ultimi dieci anni sul piano provinciale quantomeno capisce subito che le indagini sono state condotte in modo disastroso non ha il tempo però di impostare una nuova linealizzazione perché scoppia il caso Teardo caso di questo esponente socialista rampante in ascesa che poi si scopre essere stato uno degli elementi probabilmente a capo di un'associazione non riconosciuta poi come associazione in qualche modo a delinquere ma associazione dedita a corruzione e quant'altro e via le indagini si spostano subito anche perché siamo vicini alle elezioni su questo vicino a Teardo Bozzo deve in qualche modo scordarsi diciamo così della faccina delle pompe di Savona quando a un certo punto si presenta al suo ufficio il capo del reparto operativo che si chiama Aldo Mancuso questo Aldo Mancuso è un signore su cui Bozzo non ha nessuna fiducia Bozzo lo dice proprio chiaramente era molto molto critico sulle capacità investigative di questo signore e quindi lo aveva dichiaratamente estromesso dall'indagine Aldo Mancuso umiliatissimo racconta la vicenda alla sua compagna diciamo così il quale per risollevare il morale di questo umiliatissimo maresciallo gli racconta che in punto di morte la madre che sta a Cadibona gli avrebbe confidato che le bombe di Savona sono state messe da un certo Giuliano Pollero Giuliano Pollero abitante a Cadibona funzionario diciamo così dipendente dell'amministrazione provinciale di Savona il quale era in contatto con tutta una serie di malavita toscana piuttosto che di stragismo del centro Italia e quant'altro e avrebbe di persona messo un paio di bombe quella sull'autostrada piuttosto che quella sul traliccio del treno e che sostanzialmente l'avrebbe fatto perché faceva parte di questa organizzazione contro organizzazione e avrebbe confidato questa faccenda qua al padrone di questa cascina di Casa del Lupo di Tanna del Lupo che è una una cascina a Cadibona nel momento in cui questo padrone di casa avrebbe trovato un sacco pieno di armi all'interno di un fiennile o roba del genere di questa cascina Bozzo legge questa relazione di Mancuso capisce subito da esperto di terrorismo Bozzo era il comandante del gruppo che in via Montenevoso ha ritrovato il memoriale segreto di Aldomoro tanto per dirne una era il gruppo ed era il capo il comandante del gruppo che in via Fracchia ha causato quella carneficina diciamo pure le cose con il loro nome che ha portato alla come dire defenestrazione diciamo così della colonna genovese delle Brigate Rosse con una carneficina fatta anche dai carabinieri ma in ogni caso era un esperto di terrorismo e capisce subito che di concreto c'è poco per cui consiglia a Mancuso di lasciar perdere non proseguire le indagini Mancuso però non ci sta e va dal comandante di Bozzo cioè dal direttore regionale diciamo così del comando regionale Raffanelli e chiede a Raffanelli di proseguire le indagini e Raffanelli che chiama Bozzo e ordina Bozzo di lasciare che Mancuso prosegua le indagini e quindi Mancuso e tutta una serie di uomini dei carabinieri savonesi vengono allontanati dalle ricerche su Teardo dalle indagini su Teardo e cominciano a indagare su questa storia Giuliano Pollero comincia ad essere indagato diuturnamente diuturnamente Giuliano Pollero era un neofascista dichiarato diceva proprio lui ovviamente ma non c'erano elementi a suo carico e per qualche anno fino al decreto finale diciamo così rimane tra gli indagati per quanto riguarda queste bombe quando il giudice Fiorenza Giorgi si troverà di fronte all'Annec cioè dovrà fare l'atto conclusivo e quindi l'atto di chiusura delle indagini con il prosciolimento degli indagati e cosa dedicherà le prime dieci pagine a questa vicenda del Tanto del Lupo e scriverà esplicitamente che questo è un modo esemplare di un esempio esemplare di come non si conducono le indagini e cosa veramente singolare denuncerà il giudice Fiorenza Giorgi il colonnello Aldo Mancuso il maresciallo Aldo Mancuso per calunnia quindi questa storia qua non c'entra niente con le bergine di Savona davvero perché in mezzo a tante vicende ai limiti del surreale raccontate in questo memoriale fatto da Mancuso durante le sue indagini o altrimenti le sue indagini probabilmente c'è qualcuno o qualcosa che tanto di fantasia non è per esempio la presenza di una cellula toscana che quindi fa scoppiare bombe tra Firenze Bologna in quella zona praticamente e dalla quale proviene anche un tipo che ufficialmente lavora come ispettore della Elf uomo della Elf diciamo così cioè della multinazionale petrolifera francese ma che in realtà sarebbe un soggetto pagato dai servizi segreti per in qualche modo occuparsi della questione delle bombe e di Savona va avanti indietro da Savona e sicuramente era presente nel momento in cui scoppia la bomba che uccide Fanni Dallari lui era lì e addirittura è lui ma non lo dichiarerà la polizia lo dichiarerà Bruno Balbo un giornalista 4 anni dopo lui in colpa uomini dell'estrema sinistra della sinistra extraparlamentare di aver messo la bomba stranissima due giorni dopo quando viene messo a confronto con questi uomini qua si rimangia tutto verde dalla paura chissà cosa sarà successo in questi due giorni verde dalla paura e ritira tutte le accuse questo signore qua che si chiama Terracciano probabilmente qualcosa delle bombe ne sa tant'è vero che al momento giusto viene opportunamente come dire convinto ad abbandonare non soltanto Savona ma l'Italia e rifugiarsi prima in Somalia dove diviene secondo lui un amico di Siad Barre e poi l'Etiopia dove comincia un commercio ufficialmente di pelle di coccodrille e quant'altro fino a finire a un certo punto nella seconda cittadina della Repubblica Dominicana che si chiama San Juan nel nord della Repubblica Dominicana dove finisce i suoi giorni un anno e mezzo fa all'incirca diventando anche cittadino della Repubblica Dominicana questo signore qua si evince abbastanza chiaramente ma lo dice anche Gigliola Guerinoni l'ammantide di Cairo Montenotte che interrogata qualche anno dopo mentre era già in caccia da Firenze tira in ballo proprio questo terracciano insieme a una serie di altri personaggi come uno esperto di esplosivi come un esperto che lavorava nel senso che faceva in qualche modo azioni là in Toscana e come persona che ragionava in questa bella villa di Malare che aveva uno dei tanti amanti di Gigliola Guerinoni ragionava insieme a una serie di altri soldali proprio sulla questione delle bombe dei tralicci degli attentati e così via cosa c'è di vero? probabilmente molto e andrebbero indagate queste cose qua poi la gente muore è passato un sacco di anni poi Terracciano è passata miglior vita così come tanti altri tante cose probabilmente non le sapremo più certo che la pista toscana Ordine Nuovo Ordine Nero Bellardinelli tutta una serie di nomi che sono nomi in qualche modo noti delle versioni stragista e virgolette neofascista dell'epoca rientrano all'interno di questa versione nera mi limito soltanto a dire una cosa a un certo punto Fabrizio Zani che viene arrestato e che poi diventerà omicida tempo dopo e di conseguenza sconterà i suoi milioni di caccia a un certo punto durante un processo dichiara che un membro che ufficialmente diciamo così è un membro di Ordine Nuovo così come tanti altri ma in realtà era sicuramente un uomo dei servizi segreti Luigi Falica gli aveva dichiarato che il Ministero degli Interni aveva più volte utilizzato Ordine Nero per attribuire questi ufficialmente a Ordine Nero una serie di attentati che invece avevano fatto loro loro che il Ministro degli Interni probabilmente i servizi segreti probabilmente lo dice Luigi Falica secondo la testimonianza di Fabrizio Zani Luigi Falica che è ancora vivo che quantomeno era vivo nel momento in cui sono state fuori queste dichiarazioni vale a dire 2015 più o meno non è mai stato minimamente interrogato riguardo a queste questioni qua e riguarda il suo possibile coinvolgimento riguardo anche alle bombe di Savona ci sono tutta una serie di episodi di elementi che non sono stati chiariti e che probabilmente non si chiariranno ma dunque la pista spagnola in realtà è una pista piuttosto consistente anche perché in Spagna si stavano rifugiando tutta una serie di soggetti per esempio Stefano Delle Chiaie è morto un paio di anni fa un'altra delle tante persone che io ho sentito a cui ho scritto che mi hanno risposto e che mi hanno dato una serie di riscontri tanto per chiarire per esempio Vincenzo Vinci Guerra che in quel momento era solo in Spagna vicino a Stefano Delle Chiaie ed è stato Vincenzo Vinci Guerra che delle bombe di Savona noi sapevamo tantissime cose pur essendo a Madrid e che vuol dire che c'era sicuramente un canale che poteva essere soltanto un canale in qualche modo dei servizi segreti comunque governativo in senso lato che in qualche modo trasmetteva tutta una serie di informazioni da Savona quello che era alla Spagna e uno di questi soggetti che in qualche modo in quel momento è a Madrid e che potrebbe c'entrarci qualcosa è un tipo il quale è un portoghese si è rifugiato dopo che c'è stata la rivoluzione dei garofani in Portogale e quindi dovuto lavorare in Spagna dove c'è ancora il franchismo a un certo punto decide di partire per incontrare una sua amante tedesca dalle parti appunto della Germania e gli viene detto da Alberto Ojela che in quel momento era il comandante sostanzialmente del partito franchista in Spagna quindi del regime franchista in Spagna in Madrid gli viene detto se passi per l'Italia non fermarti a Savona combinazione il giorno dopo il passaggio di questo signore scoppia la bomba del 16 novembre a Savona e allora dopo poco questo signore qua che è accorto di soldi chiama un giornalista italiano e gli racconta questa storia come si chiama? in questo momento Carlo Salberto Carlo Salberto Carlo Salberto e Carlo Salberto De Carvaglio si Carlo Salberto De Carvaglio scusate forse confondo i nomi perché sono passato un po' di tempo d'accordo rivisto la cosa De Carvaglio si Carlo Salberto De Carvaglio chiama il giornalista e gli racconta sostanzialmente quello che è successo il che tra l'altro dice anche di quanto fosse veramente la sincerità e la genuinità di questi presunti terroristi Carlo Salberto De Carvaglio e il giudice Maurizio Piccozzi che fu il primo ad andarlo poi a sentire direttamente là in Portogallo quando molti anni dopo diventa in qualche modo uno dei giudici coinvolti nelle questioni delle bombe chiamata a giudicare sulle bombe fu il primo ad andare a sentire direttamente Carlo Salberto De Carvaglio e lui stesso lo giudica un uomo sicuramente legato ai servizi segreti spagnoli portughesi comunque Carlo Salberto De Carvaglio racconta questa storia e allora sul perché Carlo Salberto De Carvaglio racconti non racconti è un discorso ma come faceva De Carvaglio a sapere che sarebbe scoppiata una bomba a Savona proprio in quel momento lì chi gliel'aveva detto e chi gliel'aveva detto come faceva a sua volta a saperlo la bomba è scoppiata e questa dichiarazione c'è stata qualcuno dice equivocando qualcuno dice con un misunderstanding qualcuno dice in realtà volevano dire altre cose ma in ogni caso l'indicazione c'è stata era un altro delle tante piste che francamente sarebbe valsa la pena di approfondire allora e probabilmente qualcuno magari non tanto ufficialmente ma comunque è andato anche lui a sentire De Carvaglio probabilmente un uomo della polizia Carlucci che aveva fatto un viaggio probabilmente anche a questo scopo ma sui quali ufficialmente non si è saputo più niente il che da un lato pone anche apre anche una sorta di finestra diciamo così sull'atteggiamento da un lato della magistratura e dall'altro diciamo così delle forze di polizia su questa storia qui che non è stata comunque questo penso si possa dire del tutto cristallina ma io anche qui ho una teoria che tutto sommato ritenga abbastanza plausibile e deriva dal fatto che quando è scoppiata la bomba a febbraio sono stati risultati in qualche modo coinvolti poi a ragione a torto ma comunque all'interno di questa storia i figli di uomini delle istituzioni a livelli piuttosto grandi non dimentichiamoci che nel 79 quando Sandro Pertini arriva per la sua prima visita ufficiale da Presidente della Repubblica Savona rifiuta di incontrare Princiotta rifiuta di incontrare il prefetto e incontra Tartufo e c'è la foto di questa struttura di Tartufo ma sicuramente è una situazione molto 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 di gelo proprio perché era stato avvertito dal Consiglio di Fabrica dell'ILVA che gli operai dell'ILVA non avrebbero sopportato facilmente che il Presidente della Repubblica al compagno Sandro Pertini si fosse potuto mischiare con personaggi che avevano dimostrati in quel momento che tutto sommato era stata riaperta l'indagine perché un coraggioso giornalista Luciano Corrado aveva tirato fuori il fatto che il fascicolo delle bombe di Savona giaceva da oltre due anni sulla scrivania del procuratore Camillo Boccia ma non si era più mosso da lì non si era fatto nessun minimo passo neanche nessuna indagine di nessun tipo e di conseguenza Sandro Pertini a un certo punto sembra addirittura rinunciare a questa visita a Savona poi dopo un trafellato viaggio di Carlo Zanelli allora al sindaco a Roma Pertini viene a Savona ma comunque sostanzialmente evita di incontrare Princiotta quindi queste vicende a questi uomini delle istituzioni li ha coinvolti comunque parecchio da tanti punti di vista ma comunque li ha coinvolti parecchio attraverso i figli attraverso il loro comportamento magari non sempre al di sopra delle parti e quant'altro quando sono usciti fuori questi nomi ma qui decidere se ci sia stata una sorta di riunione occulta magari in qualche palazzo massonico di via Famagosta oppure se ci sia stata molto più semplicemente una congiura delle silenze per cui magari senza neanche dirselo tutta una serie di personaggi che hanno deciso chiudiamola qui comunque in ogni caso e piuttosto repentinamente delle bombe di Savona non hanno più parlato nessuno non ci sono stati passi avanti dalle indagini ma anche le stesse forze politiche della situazione tutto sommato e ripeto in maniera abbastanza repentina hanno abbandonato l'interesse per le bombe di Savona andiamoci un po' a vedere quanti sono stati gli articoli quanti e quali sono stati gli articoli di giornali che riguardano per esempio la bomba del 26 giugno 75 l'ultima bomba quella che avrebbe potuto fornire sicuramente una serie di spunti di qualche qualità un trafiletto su una pagina interna di un qualche giornale locale l'altro giornale locale stampo secolo non ricordo che ignora bellamente la questione dal giorno dopo nessuno riporta più nessuna informazione quant'altro un episodio come tanti come non so il furto in una tabaccheria come equivalente o quant'altro una notizia di serie C insomma parliamo delle bombe di Savona parliamo dell'ultima bomba al termine di una sequenza di 12 bombe che non ha uguali quanto meno nell'Europa del dopoguerra eppure c'è stata questa sorta di ma ripeto rimozione collettiva derivante dal fatto che erano stati coinvolti una serie di figli quanto meno di una serie di persone che poi ripeto e questo vale soprattutto per l'attuale giudice Princiotto le indagini che sono state fatte hanno comunque dimostrato che era completamente strana questo deve essere chiaro così come e lo dico nella prefazione del mio ultimo libro le persone che sono state a qualsiasi titolo in qualche modo inquisite o comunque in qualche modo coinvolte in questa faccina delle indagini sono state o prosciolte o assolte dalla magistratura per cui dal punto di vista giudiziario sono e devono essere considerati innocenti c'è un decreto che non è un atto ufficiale la questione delle bombe di Savona potrebbe quindi essere riaperto l'omicidio non va mai in prescrizione tra le altre cose però allo stato attuale degli atti le bombe di Savona non hanno colpevoli e le persone di cui stiamo parlando diciamo così servono per una possibile ricostruzione storica dell'argomento ma dal punto di vista giudiziario sono e devono essere considerati innocenti ma nonostante questo la vicenda in quel momento qua in quel periodo ha avuto tutta una serie di riscontri di conseguenze di qualche qualità e i padri probabilmente di questi soggetti qua potrebbero avere in qualche modo non dico deciso ma in qualche modo cooperato al fatto di far finire diciamo così il tenore mediatico il calore mediatico a un certo punto comincia anche OP che era l'agenzia di informazioni prima il giornale ufficiale della P2 a parlare delle bombe di Savona e il giorno dopo il settimanale che era una sorta di giornale che da un altro versante comunque approfondiva le tesi della P2 racconta compiutamente di quello che sta succedendo a Savona in relazione alle bombe stranissima la situazione speriamo nel 1979 Mino Pecorelli se non ricordo male comunque tre o quattro anni dopo l'ultima bomba quella del 75 di Savona e quindi si stava rischiando di in qualche modo recuperare il calore mediatico della situazione questi soggetti qua che fino a quel momento comunque avevano avuto un certo successo nel tenere coperta questa vicenda nel tentare di far dimenticare un pochino questa vicenda hanno ricominciato subito secondo me a tentare di andare a quella situazione ed è umano se io fossi stato al posto loro probabilmente mi sarei comportato in maniera abbastanza consimile ciò non toglie che questo abbia causato l'interruzione di una serie di indagini già nel 75 e poi negli anni ancora successivi che probabilmente potevano portare lontano e che in questo momento qua non è più possibile fare ripeto le bombe di Savona sono sempre state usualmente considerate con una narrazione che dal punto di vista narrativo per l'appunto è efficace delle bombe in cui c'è un schieramento in qualche modo sociale contro uno schieramento sociale di altra parte le bombe sono le bombe di destra contro una città di sinistra quindi ci sono i due partiti il partito diciamo così americano da un lato è il partito comunque d'altra parte popolare il partito della Savona partigiana dall'altro e ripeto è vero che la Savona la Savona partigiana ma anche la Savona città la Savona collettività la Savona comunità ha reagito in maniera eccezionale alla questione delle bombe le ronde sono state l'esempio più efficace di come dire sollevamento popolare dal basso non guidato spontaneo addirittura certo poi qualche partito tentava un minimo di instradare la cosa ma in larga parte e lo me l'ha detto ormai diversi anni fa lo stesso Santo Immovigli che in quel periodo era segretario della CGL di Savona che quindi avrebbe avuto anche in qualche modo se abbiamo un interesse a dire no li abbiamo instradati e cose mi ha detto no è stata un'iniziativa pluri pluri cosiddetta cioè nata spontaneamente dal basso e che ha in qualche modo ostacolato coloro che volevano mettere le bombe io sono il primo a dirlo e sono da savonese diciamo così orgoglioso della reazione dei savonesi di queste bombe di Savona ma se si accetta la linea esplicativa che tentato fin qua sia pure a spizzicchi e bocconi di portare avanti le bombe di Savona non sono le bombe di Juventus contro Milan sono state le bombe dei terzini della Juventus contro che so i centrocampisti della Juventus che a un certo punto cominciano a farsi la guerra giocarsi questa partita all'interno dello stesso schienamento politico le bombe se le è messa la stessa parte politica e probabilmente se le è messa per far finire questa guerra tra sciavole e manette che in quel momento in quel disgraziatissimo anno 1974 aveva già causato da un lato i morti dell'Italicus la strage di Brescia tanto per dirne un'altra e dall'altra gli arresti dei vari fumagalli dei vari miceli di tutta una serie di persone di persone amospiazzi tanto per dirne un altro che in quel momento venivano per l'appunto arrestati la guerra tra sciavole e manette la chiama Vinci Guerra anche in questo caso e secondo me ha ragione potrebbero essere stati veramente questa cosa qui la posta in gioco sarebbe stata l'attesto del rinnegato Taviani Taviani che è forte dei suoi amici americani si rifiuta di funzionare da capo espiatorio e qualcuno tenta e a quanto pare riesce a convincerlo con le buone o con le cattive le bombe di Savonà rappresentano le cattive rappresentano il tentativo di dire guarda che oggi è andata così la bomba è scoppiata ma morti non ce ne sono stati è morta a fani dall'aria perché abbiamo un attimino esagerato con l'esplosiva ma la bomba era chirurgica anche in quel caso ma le bombe continueranno fino a quando tu non te ne andrai nella tua posizione e se è così ripeto se è così l'operazione ha avuto successo Dabiani se ne è andato non è mai più tornato non soltanto al ministero dell'interno che era uno dei ministeri chiavi insieme a quello della difesa ma non è mai più tornato al governo in nessun in nessun schieramento non è mai arrivato al governo in nessun governo della Repubblica e tornato a essere o forse diventato un tranquillo signore che si occupa delle celebrazioni per colombiane professore di storia economica che si occupa di Colombo e che a un certo punto diventa d'accordo senatore a vita molto tempo dopo ma dal punto di vista della effettività politica e dell'importanza politica Taviani l'importanza la perderà a partire da quel momento lì se ragioniamo così e ripeto se ragioniamo così e secondo me ci sono tutta una serie di elementi che possono in qualche modo indirizzare verso questa possibile soluzione allora le bombe di Savona hanno avuto successo da un certo punto di vista poi quelle di febbraio del 75 hanno avuto un'altra genesi e questo è un altro discorso ma quello che secondo me va rimarcato è che le bombe sono da una parte sola o meglio questa partita è stata giocata tra due ali dello stesso schieramento la Savona antifascista la Savona delle Ronde la Savona della Vigilanza Notturna la Savona dei Carabinieri che spingevano la macchina di Agostino Maciò di Cesina delle scuole medie di Guido Bono non lo sapevano ma probabilmente Savona centrava soltanto per il fatto di essere stata inserita a suo tempo nello stesso collegio elettorale di Genova in collegio in quel momento era Paolo Emilio Taviani ciò non diminuisce di un grammo la gravità di quello che è successo e non diminuisce di un grammo la risposta della popolazione Savonese questo è chiaro ma l'eziologia non è quella che normalmente viene raccontata la fase diciamo così più impegnativa per quanto riguarda questa possibile soluzione politica da dare a questa porta aeree sul Mediterraneo che era l'Italia che non dimentichiamolo negli accordi di Alta era la nazione frontiera di fronte alla quale c'era poi il patto di Varsavia e la stagione più impegnativa incomincia in realtà nel 65 con la riunione all'hotel Parco dei Principi con i manifesti cinesi con l'opac diciamo così posizioni delle chiaie e quant'altro ma ha un suo proprio momento di stacco a partire da una data molto precisa il 5 novembre del 72 quando Forlani fa un discorso alla Spezia e quindi non significativamente nella città dove è dislocata una base della Folgore fa un discorso molto poco in linea con la tradizionale prudenza la tradizionale diciamo così il tradizionale centrismo di quello che allora era il Delfino di Fanfari è un discorso molto preoccupato in cui dice sostanzialmente abbiamo assistito a un tentativo occulto di avversione stragistica o comunque di avversione di destra in Italia e questo tentativo è tutt'altro che finito sul perché Forlani in quel momento lì senta il bisogno e il suo Delfino Gianfranco Arnaudi il giorno dopo rimarchi la situazione in un'intervista ridicendo sostanzialmente le stesse cose con ancora maggior dovizio di particolari lo spiega per l'appunto Vincenzo Vinci Guerra abbastanza compiutamente e dice ma da quel momento questa guerra che finora c'era sempre stata una guerra piuttosto lottente tra i fautori della soluzione morbida nei confronti del partito comunista italiano che era il partito stalinista che era presente in Italia e che era il maggior partito ripeto ufficialmente comunista nel blocco occidentale c'erano i fautori di una soluzione in qualche modo morbida vediamo di tentare di coinvolgerli o quantomeno di accostarli ad una soluzione politica che culminerà poi con il 1978 con la strategia dell'attenzione prima con la solidarietà nazionale dopo e dall'altra parte coloro che invece volevano una soluzione drastica facciamo una sorta di colpo di Stato in qualche modo cileno oppure un colpo di Stato in qualche modo greco una situazione e eliminiamo per via giudiziaria e oppure per via militare il partito comunista italiano dalla scena queste due tendenze nello stesso schieramento ci sono sempre state e il ben documentato vinci guerra fa partire addirittura questa come dire partita inizialmente occulta e poi via via sempre più evidente addirittura dal 43 subito dopo l'armistizia del 43 ma a partire dal 72 questa guerra sotterranea diciamo così tra coloro che dicevano il PC né ora né mai al governo e coloro che invece dicevano capitanati da un politico piuttosto fine Aldo Moro che era diciamo così il ministro culto degli esteri della democrazia cristiana e colui che tesseva veramente le fila della politica non soltanto a livello nazionale ma anche nei confronti degli altri paesi del blocco della democrazia cristiana ecco questa guerra diventa più evidente e ripeto Vincenzo Vinci Guerra spiega anche secondo lui il perché a un certo punto nel 74 questa guerra si fa assolutamente cruenta e da un lato ripeto parliamo non soltanto delle bombe di Savona che ci sono state e che hanno una genesi in parte diversa ma cominciano comunque il 30 aprile ma parliamo della stazione della bomba a Brescia parliamo dell'Italicus parliamo di una serie di altri attentati magari di minore entità li riporto nel libro della situazione ma che comunque ci sono stati e dall'altro parliamo di cominciare degli arresti di tutta una serie di personaggi via via di importanza più crescente cominciamo da Fumagalli dei Mar passiamo ad Amos Piazzi che allora era un colonnello poi arriva Miceli che era il generale che era il capo riconosciuto dal SID e quindi arriviamo a questa situazione a un certo punto si conclude questa vicenda qua e cominciano per l'appunto a venire fuori le Brigatte Rosse io non sono un dietrologo quindi non mi piace cercare di capire che cosa c'è dietro la sorgere delle Brigatte Rosse la nascita delle Brigatte Rosse mi è capitato molti anni fa di sentire per esempio una serie di esponenti delle loro Brigatte Rosse che raccontavano in occasione di incontri più o meno pubblici quant'altro di quanto era stato il sorgere delle Brigatte Rosse Curcio Franceschini soprattutto non credo che ci fosse una volontà riconosciuta o comunque una conoscenza da parte di questi brigatisti di quello che stava realmente in Italia sul fatto che qualcuno potrebbe avere cominciato a manovrare prima in quel periodo le Brigatte Rosse per indirizzarli verso una serie di una deviazione da quella che era la propaganda armata fino all'assalto al cuore dello Stato io ci credo e credo che sia arrivato che sia cominciata questa storia qua proprio in quel momento quando si è deciso di abbandonare la tendenza stragista che a quanto pare è stata riconosciuta come perdente o comunque non produttiva normalizzare le cose nei conflitti del Partito Comunista italiano che comincia ad essere interpellato anche se tutta una serie di questioni di governo fino ad arrivare ripeto dalla strategia dell'attenzione fino ad arrivare poi alla solitarietà nazionale e alla vicenda d'amore e quant'altro e quindi normalizzare da un certo punto di vista le vicende e i rapporti col Partito Comunista italiano e contemporaneamente non saprei neanche io deviare l'attenzione ma non è l'espressione giusta ma è l'unica che mi viene in mente della popolazione e dell'opinione pubblica dal terrorismo di destra verso questa altra forma di terrorismo ripeto di sinistra dalle caratteristiche diverse sicuramente come dire meno ma anche qui vengono in mente una serie di termini che però non spiegano meno sapiente diciamo così più ingenuo nel senso peggiore del termine rispetto a quello del terrorismo di destra che erano le brigate rosse e tutta l'altra calassia di partiti extra diciamo partiti stragisti partiti diciamo così della violenza armata e così via sì penso che sia convincente questa possibile guerra e un indizio tutto sommato efficace è proprio il fatto che in quel momento il signor Lice Orgelli comincia a scrivere quel famoso opuscolo sulla P2 la situazione che verrà trovata Castiglione-Fibocchi tempo dopo ma che sostanzialmente rappresenta una sorta di manifesto programmatico della P2 e nella quale Lice Orgelli comincia dicendo noi non abbiamo nessuna intenzione di fare come dire in qualche modo insurrezione violenta o un'azione violenta ci basta andare a prendere i gangli giusti dello Stato in buona sostanza più chiaro di così Bozzo per esempio che dal punto di vista di indagatore una certa esperienza ce l'aveva era assolutamente sicuro che questi soggetti qua fossero appunto soggetti a livello nazionale o addirittura anche più che nazionale ma che avessero i loro referenti in qualche modo a Savona e alcuni di questi referenti per esempio li troviamo qualche persona ancora oggi vivente tra le altre cose che sta in qualche paesino qua in immediato Interland Savonese e che in quel momento lì nascostamente però probabilmente aveva un ruolo decisamente importante all'interno di questa vicenda qua per esempio ospitava i terroristi che poi sarebbero andati a mettere le bombe e dall'altro c'era sicuramente una conoscenza di una serie di giovanotti che in qualche modo condividevano o quantomeno non erano del tutto indifferenti a certe sirene di destra e quant'altro e utilizzare questi giovanotti chissà se raccontandogli la verità oppure raccontandogli qualcosa ma coinvolgendoli in queste come dire approntamento da un lato e messe in opera delle bombe perché poi le bombe qualcuno doveva anche portare sul posto doveva mettere doveva armare doveva darci l'innesco e tutta questa operazione qua difficilmente potevano essere fatte da un soggetto che era stato una volta nella sua vita a Savona ma che del viadotto dell'acqua buona non sapeva neanche l'esistenza piuttosto che del traliccio dell'enere e quant'altro dei referenti locali ci devono essere assolutamente se questi referenti locali sapessero o non sapessero sospettassero magari del fatto che sopra di loro si muoveva qualcosa di molto più grande oppure fossero soltanto dei giovanotti che tutto sommato erano convinti di fare la rivoluzione mettendo due bombe e questo bisognerebbe chiederlo a loro ammesso che avessero voglia di raccontarcelo sono ancora vivi molti di questi però sul fatto che questi consapevolmente o inconsapevolmente fossero referenti locali di un gioco decisamente più grande di loro di questo scontro beh questo non soltanto è logico ma probabilmente anche è la fattualità è così non riesco a pensare di persone che arrivano in un posto che non hanno mai visto né conosciuto che forse di cui forse sono stati presenti una volta in centro in città magari vent'anni prima che si mettono a mettere delle bombe nel centro di Savona piuttosto che sul vietato dell'acqua buona logicamente questo discorso qua non è proprio sostenibile quindi secondo me i referenti locali consapevoli inconsapevoli c'erano dal punto di vista politico c'erano una serie di soggetti che sapevano quello che stava succedendo sospettivamente quello che stavano succedendo e non hanno sostanzialmente fatto niente o erano pronti a profittare la mia risposta è di nuovo sì c'erano una serie di referenti ma sostanzialmente non vanno cercati secondo me tra le forze locali neanche nel movimento sociale italiano io ho intervistato molti anni fa l'ormai ormai il defunto Ghione che allora era un componente della direzione provinciale del movimento sociale italiano e continuerà ad essere per alcuni anni il quale mi diceva e sono disposto a prestargli fede che lui non conosceva neanche il nome di tanti di questi estremisti di destra presunti tali che si aggiravano in quel periodo di secondo me un possibile riferimento locale di questi soggetti nazionali o internazionali diciamo così va rintracciato nella massoneria la massoneria in particolare la massoneria occulta e Bozzo quando arriverà a Savona comincia a farsi una sua indagine sulle loggie coperte a Savona ne troverà otto otto loggie coperte a Savona secondo me lì in questi palazzi di via Famagosta dove allora erano notoriamente sedi di qualche organizzazione massonica secondo me si poteva trovare molto più facilmente qualcuno che sapesse o sospettasse pesantemente quello che stava succedendo non tanto ripeto partiti anche partiti moderati anche la democrazia cristiana per carità anche i partiti liberali della situazione e quant'altro non credo che ne sapessero più di tanto con la parziale eccezione forse di quel ramo del partito liberale che faceva riferimento a Edgardo Sogno il partito liberale a livello locale allora era diviso due componenti una più centrista e una che faceva riferimento a Edgardo Sogno Edgardo Sogno è uno di quelli che dalle dichiarazioni che ha fatto probabilmente qualcosina di questa storia ne sapeva ma all'infuori di questa eccezione io non credo che i partiti neanche ripeti i partiti chiamiamoli così conservatori sapessero molto di questa storia qua all'interno della massoneria qualcuno si qualcuno che probabilmente era in contatto con quel signore che giocava a baseball le metteva i dischi alla discoteca di Finole Licone ma che era anche il capo della base americana di Piano dei Corsi ed era sicuramente lo dice la sua ex moglie non lo dico io era sicuramente un uomo della CIA quindi questi contatti secondo me passavano attraverso queste questioni d'altronde che la P2 fosse oltre al tutto il resto anche una sorta di referente locale della CIA lo dice Bozzo ma lo dice a me ma l'ho detto anche in tante altre dichiarazioni lo diceva dalla Chiesa lo dicevano tutta una serie di persone che di indagini e di in qualche modo conoscenza dell'ambiente qualcosa ne sapevano evidentemente ma il 273 Meloni era un sincero democratico diciamo pure così che a un certo punto non so se viene a conoscenza oppure qualcuno gli suggerisce oppure comincia a fare una serie di indagini su una serie di sottobosco che riguarda il clan Teardo e che secondo lui lambisce anche più o meno pesantemente la questione delle bombe di Savone e a un certo punto tira fuori una relazione dedicata a Nicola Isetta un sindacalista tra le altre cose che riguarda che si chiama per l'appunto la P2 e le bombe di Savone io ho studiato non dico a profondità ma comunque ho consultato abbastanza approfonditamente questa vicenda qua Tremelo era sicuramente una persona che uno era sincera e due aveva qualche conoscenza sul fatto che però si è arrivato a concludere che la P2 centrasse qualcosa direttamente con le bombe di Savone secondo me non è così secondo me non ce l'ha fatta il che non significa che non possa essere vero possibilissimo che la P2 che allora era diciamo così ufficialmente ancora in formazione diciamo così e ufficialmente non vedeva ancora tra le sue presenze Alberto Teardo che diventerà membro della P2 ammesso che lo diventi lui l'ha sempre smentito ma comunque membro della P2 nel 78 quindi 4 anni dopo però comunque è possibile che qualche membro della massoneria e magari di questa P2 in realtà sapesse molto delle bombe di Savona e magari in qualche modo non fosse del tutto estraneo a queste esplosioni ma secondo me Trivelloni al di là della sua pregevole relazione di collaborità però non riesce a dimostrarlo ciò non toglie che Trivelloni dicano una serie di cose interessanti sia sulla P2 in quanto tale sia sul fatto che la P2 oltre a essere un luogo di malaffare diciamo così affaristico probabilmente diceva anche qualcosa in relazione ai movimenti più o meno sotterrani che a livello politico stavano avvenendo non soltanto a Savona edintori ma anche leggermente più su però ripeto non risulta dimostrata secondo me dalla relazione Trivelloni un coinvolgimento fattuale effettivo anche un avvicinamento al di là di una conoscenza così sommaria dell'argomento di uomini della P2 nei uomini di Savona né per quanto riguarda Teardo né per quanto riguarda il capitano di fregata Alberto Murru che sarà l'altro Savonese insieme a Trivelloni conosciuto negli 962 nomi della lista P2 trovato poi a Castagnon Fibocchi quindi allo stato attuale direi che quello che si può dire è questo che si può dire che si può dire che si può dire